Le tute arrivate dalla Cina e distribuite al personale sanitario pugliese impegnato nella lotta al coronavirus sarebbero inutilizzabili. A pochi giorni dalla consegna, documentata anche attraverso i social di nuovi dispositivi di protezione per medici ed operatori ospedalieri, grazie ad un imponente acquisto dal paese asiatico, arriva una bacchettata da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari nei confronti della regione. Le tute in questione, sostengono gli infermieri, dopo le diverse segnalazioni arrivate dal personale in corsia, non metterebbero al riparo da possibili contagi ma sarebbero utilizzabili solamente per la protezione meccanica. Vale a dire, è scritto in un comunicato degli infermieri, che le tute assegnate agli operatori sanitari per le unità operative di degenza in area Covid-19, per via delle loro caratteristiche, sono state utilizzate in Cina solo per le attività di sanificazione degli ambienti e non ridurrebbero il rischio di contaminazione biologica. Il modello è inoltre privo di marchio CE e non è certificato dall'Inail. Ma la regione non ci sta e affide la risposta ad una nota del dirigente della protezione civile Mario Lerario, secondo cui le tute acquistate e consegnate alla Puglia sono le stesse utilizzate dal governo cinese per combattere la pandemia di coronavirus a Wuhan, la prima città focolaio, e in altre zone del paese. Si tratta, sostiene la protezione civile, di dispositivi di protezione individuale prodotti per il mercato cinese che rispondono in tutto e per tutto a standard sovrapponibili a quelli europei. Un dato certificato anche dai tecnici della task force pugliese che sta gestendo l'emergenza. Quanto al marchio CE, la regione specifica che la mancanza è dovuta a motivi geografici, le tute cioè non erano originariamente destinati all'esportazione e sono arrivati in Italia solo su specifica richiesta della Puglia. L'assenza del marchio è inoltre superata dalle disposizioni adottate dalla protezione civile in questa situazione di emergenza. Le tute cinesi utilizzate in Puglia, sottolinea inoltre il comunicato, sono identiche a quelle che sono state inviate in una certa quantità anche alla stessa protezione civile nazionale per fronteggiare la carenza di dispositivi di protezione in altre regioni italiane.